Sono all'aeroporto Marconi di Bologna con Massimo e andremo in Germania a visitare i nostri top clienti. C'è un sacco di gente. Eccola la nostra destinazione. Siamo arrivati. Apriti il sesamo. Adesso andremo a visitare una cetaia. Stanno preparando una degustazione, una cosa abbastanza particolare. Facciamolo cadere così vediamo anche come sono fatti gli ospedali in Germania. Abbiamo anche la guida, non ho capito se parla in tedesco o in inglese. Speriamo in inglese ma ho dei seri dubbi. Ecco guarda ci stanno vestendo Massimo. Questa è la modalità per entrare nella cella dove ci hanno detto che non dobbiamo rilasciare batteri. Insomma mi hanno tradotto era tutto in tedesco. Ecco sta facendo anche messa. La visita alla cetaia è terminata, è stata bellissima purtroppo non potevamo filmare. Però fortunatamente c'è la Ania che ha tradotto tutto, quindi abbiamo capito quasi tutto, diciamo, tutti i segreti dell'aceto. Stanno preparando un po' di assaggi. Intanto sono preparato anche questo piattino, con questi due cioccolatini e un po' di pane. Thank you. Ora ci troviamo a Mainz, in questo paesino che definirei delizioso. È veramente molto carino. E ora di cena. Adesso andiamo in questo bellissimo ristorante. Gusto. Diciamo che questo posto è tutto un programma. Sono in Germania ma mi sento un po' come essere a casa, anche perché è dove ci ha portato, in un ristorante italiano. Qual è la specialità di questo ristorante? E qui, direi, il nostro vitello tornato, il nostro provato di patta media. E molta gente viene qua per mangiare il pesce. Bel Negroni per cominciare la serata, ci sta tutto. C'è, 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 c'è. We have a big surprise for the Garvan dealer in Germany. Questo è un buon vino italiano. Hard work. Ora mi trovo a casa di Marcus, il nostro distributore per la Germania. E andremo a visitare questo fantastico giardino. Eccoli qua i nostri Garvan SA 225. Un diffusore che suona a 360 gradi e questo modello, che supporta 300 Watt RMS e 600 massimi, copre un'area molto vasta. Il cabinet di questo diffusore è costruito interamente in grass. Non potevano mancare gli SA 115 costruiti in Corian con finitura Corten. Questo giardino contiene molte di queste pecole. Questo è un oggetto d'arte creato da un'azienda che dista circa 200 km da qui, da Francoforte. E questo prodotto è stato creato per un argomento che ad oggi è veramente molto attuale. Per la pace. Ora sono in casa e anche qui ci sono montati i diffusori acustici Garvan, le SIC 117. E' ora di pranzo, siamo fermati in questo bellissimo ristorante. Guardate un po' cosa abbiamo ordinato. E un po' di carnaccia. Qui qua ci sono due belle pizze. Il nostro distributore tedesco ha ordinato una pizza che si chiama Mafia. E parliamo ancora di lavoro? No, scherze. Qui siamo in un ristorante che una volta era un pagliaio. E ha un'architettura veramente particolare. Neanche il titolare ci ha saputo dire l'età di questo edificio. E' particolare perché è tutto in legno, o meno ha tutto lo scheletro, la struttura in legno. E le pareti sono a faccia vista in pietra. E guys? Purtroppo oggi ci sono saltati molti appuntamenti. Però stiamo rimediando, visitando ristoranti e altre cose. Diciamo che più che un viaggio di lavoro sta diventando un viaggio di piacere. Abbiamo una grande novità. Ci sarà una bella showroom Garvan in Germania. Però più di così non possiamo dirvi perché dovrà rimanere tutto segreto finché non sarà tutto pronto. Rimanete in contatto e vi faremo vedere questa showroom che sarà molto interessante e innovativa. Questo è lo Schweiner Medallion. Buono, buono. Siamo in Germania, ma ovunque vado trovo sempre un pezzo di Italia. Il viaggio in Germania è terminato e si ritorna a casa. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao.